Antonio Scalera è candidato al Consiglio regionale pugliese con la lista Puglia domani, Fitto presidente. Scalera, perché il sostegno al candidato governatore Raffaele Fitto? Io ritengo che Fitto sia oggi una persona che può non solo ben amministrare questo territorio, la Puglia, ma credo che sia la persona che è conoscitore di questo territorio, che ha amministrato bene quando ha fatto l'amministratore. Poi è ovvio che sulla base dell'esperienza politica e amministrativa che ha Raffaele Fitto ritengo che questo territorio lo può rilanciare visto che in questi ultimi dieci anni è stato solo abbandonato. Grazie a tutti.